Musica Benvenuti a questo nuovo appuntamento con ConfCommercio Notizie. La Basilica Palladiana, il teatro olimpico e il santuario di Monteberico, il Duomo e Palazzo Chericati. Sono solo alcuni dei monumenti con cui Vicenza si mostra i visitatori di Van Gogh tra il grano e il cielo. Si chiama proprio Vicenza si mostra l'iniziativa lanciata dai commercianti del Centro Storico per presentare con un'immagine coordinata la città alle centinaia di migliaia di persone attese da qui ad aprile per l'esposizione ospitata in Basilica Palladiana e curata da Marco Goldin. Un vero e proprio kit di benvenuto, quello studiato per l'occasione che sarà disponibile in un espositore collocato nei negozi aderenti. Il kit consiste in una mappa della città, una cartolina con alcuni dei monumenti simbolo di Vicenza e un biglietto da visita a cui si aggiunge una carta da regalo con cui confezionare gli acquisti. Il tutto con l'immagine di alcuni dei più bei monumenti di Vicenza per creare curiosità e magari convincere più di qualche turista a fermarsi di più in città o a programmare un altro tour. Innescando così quel volano che può far crescere il turismo e conseguentemente anche il commercio. Vogliamo essere una città turistica e vogliamo dare dei piccoli segni. Abbiamo una carta regalo che mostra tutte le belle cose che abbiamo in città, abbiamo dei biglietti da visita da consegnare insieme all'acquisto e delle cartoline per chi vuole mandare un messaggio, un augurio di questa città per ritornare. Il nostro grande obiettivo è quello di far sì che le 300.000 persone che speriamo vengano a vedere la mostra di Van Gogh ritornino perché scoprono una città bellissima che ha molte cose da dire e da far godere e da far ammirare. Sarà compito nostro, nella nostra categoria, il riuscire a comunicarlo ai nostri clienti. Un unico portale turistico su web e app per i visitatori di Vicenza e provincia che vuole trovare informazioni utili su cosa vedere, dove alloggiare, in quali locali mangiare e quali eventi sono on stage. Con questo biglietto, CovCommercio Vicenza ha totalmente rinnovato il proprio sito www.viturism.it e creato un'app scaricabile su dispositivi iOS e Android. Il nuovo sito è stato presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa. Tutto per i turisti, in poche parole dobbiamo passare da un mordi e fuggi a Vicenza e avere invece una permanenza nella nostra città, ma soprattutto far sì che ci sia un incentivo a visitare la nostra provincia. Uno può organizzare una visita per visitare la mostra di Van Gogh, ma poi deve mettere assieme varie cose, vari elementi. Abbiamo cercato una formula semplice per arrivare ad un risultato che sia premiante nei confronti di questa ricerca. Una ricerca che sia fluida. In poche parole, arrivando all'autostrada bisogna capire come entrare nel centro di Vicenza, dove trovare i parcheggi, dove poter visitare un museo, dove poter avere soddisfazione anche nel pranzo di mezzogiorno. In poche parole anche quelle cose che sono accessorie, considerate accessorie, ma che invece sono fondamentali per rendere l'accoglienza migliore. Adesso, anche grazie a questo importante lavoro con CovCommercio, stiamo rilanciando ed efficientando l'informazione, che è un altro importante ed essenziale servizio al turista e al visitatore, e restano però ovviamente sullo sfondo grandi investimenti. Penso ad esempio all'alberghiero, che a Vicenza sta conoscendo una ripresa importante, i numeri sono in aumento, ma che avrebbe oggi bisogno di più strutture e proprio a servizio del centro storico. Legalità mi piace è l'iniziativa di CovCommercio nazionale che si concretizza in un monitoraggio sulla situazione delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi e dei trasporti, colpite da episodi di criminalità. Un'iniziativa con la quale CovCommercio punterà a descrivere le dimensioni dell'illegalità nella maniera più corretta, analizzando come sono cambiati i fenomeni criminali negli ultimi anni. Da qui l'invito a tutti i nostri operatori a compilare in forma anonima il questionario Legalità mi piace, a cui si può accedere dal sito covcommerciovicenza.info. I risultati dell'indagine svolte in collaborazione con GFK e Urisco saranno presentati durante la giornata di CovCommercio Legalità mi piace che si svolgerà il 21 novembre prossimo. Sono stati Andrea Barbiero dell'Istituto Alberghiero Maffioli di Castelfranco Veneto e Nicolas Lentini dell'Istituto Alberghiero Alberini di Villorba a vincere la prova pratica di cucina per entrare a far parte, grazie a due borse di studio, dei 20 selezionatissimi allievi che frequenteranno il Master della Cucina Italiana 2018. La prestigiosa scuola per futuri chef che ha tra i propri docenti i migliori esperti di enogastronomia ed una squadra di grandi chef dove brillano 33 stelle Michelin. A contendersi la possibilità di partecipare gratuitamente al corso che inizierà il 15 gennaio prossimo sono stati otto neodiplomati veneti che si sono sfidati venerdì nello Chef Talent, la selezione per frequentare gratuitamente il Master della Cucina Italiana grazie al contributo di Banca Mediolanum e dell'azienda Radar S.p.A. Siamo andati al centro formazione ESAC di Creazzo, sede del Master, per vivere in diretta le emozioni della prova che ha visto brillare tra gli otto Andrea Barbiero e Nicola Salentini. La prova sta andando bene, c'è un po' di eccitazione però fa parte del gioco. Come sta andando? Bene, un po' faticoso, inaspettato ma bene. La prova è strutturata in tre piatti. Come primo piatto ho pensato a degli spaghetti cacio e pepe, il secondo piatto sono le zucchine alla scapece e come dessert il cran caramel. Questa è una grande opportunità per i ragazzi che vengono fuori dagli istituti alberghieri. È sicuramente un inizio di un percorso perché ovviamente la selezione di oggi vedrà premiati due ragazzi degli istituti alberghieri del Triveneto che potranno partecipare con le borse di studio messe a disposizione dai nostri due sponsor ha un percorso veramente molto interessante che è quello del Master della Cucina Italiana. Master della Cucina Italiana che partirà il 15 di gennaio del 2018 e come sempre vedrà impegnato e vedrà presenti nella nostra scuola di formazione e ha di alta formazione i chef stellati di tutta Italia. Non solo chef stellati ma anche tutta una serie di altri docenti, anche universitari che daranno le basi per aprire la mente ai giovani che si affacciano a un mondo del lavoro molto molto interessante. La mia soddisfazione è tanta, fino a questa mattina non me l'aspettavo, anzi ero abbastanza scettico e sono sorpreso e molto felice di questo. Per la cucina sin da piccolo è sempre stato amore a prima vista e ho sempre mantenuto negli anni la passione, tuttora la coltivo e con questa occasione spero che sarà un trappolino di lancio per un futuro. È il weekend del cioccolato con Cioccolandovi che sta per chiudere la tredicesima edizione proprio in queste ore. Fine settimana l'insegna del cioccolato di qualità ed autore con tante golosità ed iniziative per grandi e piccini che ha visto come da tradizione un importante afflusso di golosi in centro. Ma noi parliamo anche del gelato, sì perché il 27 novembre prossimo inizierà all'Università del Gusto un interessante quanto pratico corso di gelateria di 20 ore rivolto sia ai neofiti che ai professionisti. Ce ne illustra i contenuti il maestro gelatiere Guido Zandonà, docente del corso. Questo corso è rivolto sia a neofiti che a gelatieri e andremo a stravolgere quello che è il classico corso di gelateria quindi teoria, teoria, teoria e pratica quindi sarà prima una storia sul perché l'Italia è prima produttrice di gelato artigianale e quindi da lì capire, quindi andremo a non fare teoria andremo a fare direttamente la pratica per toccare con mano quello che andremo a fare e poi per andarlo a spiegare e poi dargli la possibilità a loro di ricrearlo dargli le capacità per ricrearlo. In più nell'intermezzo faremo anche del gelato all'azotto. Ed ora le altre proposte di formazione food e aziendale. ESAC Formazione propone dal 30 ottobre al 15 novembre il corso di inglese pre-intermedio livello A2. Dal 6 al 15 novembre corso in quattro incontri serali dedicato al controllo delle operazioni bancarie per conoscere i meccanismi che regolano i moderni rapporti e le contrattazioni con le banche. L'Università del Gusto organizza per il 24 ottobre la serata della Grill Academy dedicata agli appassionati della griglia per svelare i trucchi dei professionisti nella cottura di carni, verdure e dolci con il barbecue. Infine il 30 ottobre menù d'autore con lo chef bistellato vicentino Nicola Portinari. Ed ora l'agenda. Lunedì alle 7 visita ad Osta, Fiera di Milano-Rò. Martedì alle 19.30 consiglio della Delegazione Comunale di Nanto e alle 20.45 consiglio della Delegazione Comunale di Creazzo. Mercoledì alle 18.30 riunione delle macellerie aderenti all'iniziativa Le Macellerie del Gusto, mentre alle 20.30 consiglio della Delegazione Comunale di Brendola. Giovedì alle 20.45 consiglio della Delegazione Comunale di San Drigo. E per quanto riguarda questo appuntamento con ConfCommercio Notizia è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento come sempre a domenica prossima. Un arrivederci e buona settimana. Un arrivederci e buona settimana.